Ciao, anche io ho deciso di partecipare a questo video in un giorno speciale come questo. Innanzitutto mi presento, sono Federica Centorrino e sono una laureanda in infermieristica. Ho deciso di percorrere questo lavoro proprio per il mio vissuto, perché la vita con me non è stata molto facile negli ultimi dieci anni, ma nonostante tutto non mi sono mai arresa. Mi sono trovata a dover combattere per ben due volte contro il cancro ed è per questo che ho deciso di dedicare la mia vita per gli altri, perché capisco le loro sofferenze, le loro paure, le loro ansie. Diciamo che mi medesimo in ogni paziente che incontro nella mia vita. Tante volte quando la vita mi apposto e mi pone degli ostacoli, nella mia mente mi ripeto che sono una donna e noi donne siamo nate per essere forti, siamo nate per sopportare dei dolori, diciamo che siamo nate per rimboccarci le maniche e rimetterci in gioco ogni giorno. Siamo nate anche per difendere tutto quello che ci appartiene. Ecco perché il mio auguri oggi va a tutte le donne, ma in modo particolare per le donne che combattono ogni giorno per vivere. Quindi auguro a tutti un buon 8 marzo. Un bacio!